Salve a tutti ragazzi, bentornati su All Games Channel, siamo sulla terza parte Penso che finirò con questa terza parte, questi gameplay, poi magari sentirò voi tramite commenti Se vi sono piaciuti, magari continuo anche, non c'è problema Tutto di tuo gradimento, signora? Più o meno, la solita mattina londinese Concordo Ma spero fosse solo l'inizio Prima le signore Fai piano Pensi che dovremmo fare secco qualche riccone? Non dire altro C'è il bello che sto giocando, sembra una scena Mio, mio all'istante C'è guarda È qualcosa di bellissimo, è troppo bello È bellissimo Vabbè, vabbè, basta, 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 basta Gasarmi per il dettaglio grafico Ai reni Fagli male ai reni Sti pezzi di merda Muori Muori Maledetto Cazzo, cazzo Ah, veramente Bella l'animazione Io stellare, eh Magari poi ci metto un rallenty replay Per sta scena Della grande mira di Old Snake Ok Do una rapida occhiata qui intorno Vediamo se c'è qualcosa di interessante Semplicemente Le armi per terra Ma preferisco tenermi le mie Fanno parte Sono le armi dell'ordine Cioè, quindi hanno un valore Sicuramente superiore Ce ne saranno altri qui dentro Sfondiamo allora Ah, R2 per sparare Ok Però devo capire una cosa Ah, con L1 Perfetto Perfetto Con L1 Però c'è una barra Che carica Non l'ho capita bene Ma come sparava quello? Ho voglia di dilaniarlo Ehi, indietro Al dia Eh, vabbè Eh, vabbè Sono ancora paraplegico A muovermi Ok Voi due Signore Di sotto Dei civili hanno bisogno di aiuto Signor sì Signore Il generale Lafayette è di là Lafayette Deve essere quel ragazzo Sì, ok C'è una donna in questa città Che non cercherebbe di sedurre Ora è un problema tuo Cerca di non restare indietro Lafayette Ah, monsieur Questa dama richiede le mie attenzioni Marchese Marchese Le tue attenzioni sono richieste altrove Le assicuro, mademoiselle Che se declino il suo invito È solo per attenermi al voto di L1 Oh, marchese Non può andarsene ora Sfortunatamente, milady Il dovere Mi reclama altrove È il cazzone del gruppo Ovviamente Donna affascinante, vero? Non ci ho fatto caso Perché non sei francese? Sei il francese più americano Che abbia mai conosciuto Io amo la libertà, mon ami Un cavaliere deve dominare le passioni Senza passione, monsieur Non si può combattere Non combattiamo contro uomini, marchese Uomini? Mezzosangue? Fa differenza? Vive la libertà Vive la libertà Percival Oh, Percival Ello giù Strano Andiamo Finalmente Marchese Tu e Lady Grey Andate da lì Io entro da quest'ingresso E mi occupo degli altri fuggiaschi Oui, monsieur Signore Ok Occupiamo di questi fuggiaschi rimasti Comando aereo a tutti i cavalieri in prossimità di Mayfair La polizia cittadina ha delimitato un perimetro intorno alle zone coinvolte Le sentinelle proseguono con le ronde dall'alto Se qualcuno ha visto i pazienti evasi, ti allerteremo all'istante Ricevuto Ricevuto Cosa abbiamo qui dentro Ok Come al solito Stoppo E rinizio subito Rieccoci A me è troppo tranquillo Non mi fa selezionare la pistola Posso usare solo il fucile Quindi Controlliamo anche Non so perché Ma mi era perso di vedere qualcosa Non c'è nulla Possiamo continuare da quella parte O da questa Cazzo Galaz Stai facendo progressi? Sono nella sala generatore La Fayette e io abbiamo deciso di dividerci Wimper Non ho ancora incontrato resistenza Dove sono quei due uomini? Ok Ok Vabbè ci sono queste brevi fasi Platform Se possiamo definirle Verso il lato opposto Puoi saltare Con X Movi L Verso il lato opposto Eh Lo sto facendo Lato opposto Per me è quel Eh Questo qua O intende semplicemente Ah ok Scusate Sapevo che avrei fatto meglio di te Ricordo La gioventù vince sempre Eh La ragazzina ci sta prendendo in giro Ma sono sicuro che c'è un amore C'è del tenero tra noi Mamma mia Oh Attenzione Uno dei fuggitivi Ho messo sempre Ah ma si trasformano Quando vogliono loro Ok Non sapevo questa cosa Facciamo anche più di uno Elimina Mamma mia La mia è bloccata E ci vorrà un po' Per raggiungerlo Ecco perché solo il fucile Ok Ok Triangolo per giustizare un lycan Prima che si riprenda Ah perfetto E poi torna alla forma umana Obiettivo sulla mia posizione Cazzo Non male No 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 Ce ne sono due Eh stavolta è finita È finita male Vabbè ragazzi Con questo concludo il mio terzo video Se Mettiamo pausa Se vi sono piaciuti Ditemelo Che lo continuo volentieri E Altrimenti Renderlo un po' qui Continuo con gli altri video Magari ci potrei fare Anche una serie Quelle serie veloci Oppure Non lo so Fatemi sapere voi Magari nei commenti Grazie per la visione Mettete mi piace Se vi è piaciuto Condividetelo Nel caso vi è piaciuto Ovviamente Iscrivetevi al canale Se siete i primi Se è il primo video che vedete Fate quello che volete Alla prossima